Tutti insieme per agire, tutti insieme per reagire Insieme per sopravvivere, uniti per vivere La situazione è grave, non basterà una rima L'Italia è da ultimo, posto è diventata prima Contagiati e morti ogni giorno ad aumentare Siamo intelligenti se vogliamo continuare La sera tutti in ansia ad attendere il regreto Quando tutti già sappiamo quale sarà l'esito Con te che ci spiega e stanno a rispondere Io resto a casa, lasciata diffondere Avevo tutte quante le persone intorno E adesso sembra di vivere in un sogno Un incubo in particolare Dove ormai nessuno capisce più che cosa deve fare Adesso ti racconto la mia vita da studente È un problema, bisogna agire correttamente Pronti a spaccare e si va avanti Insieme agli acidi, raccontiamo come stanno i fatti All'inizio si pensava fosse una semplice malattia Ma poi dopo poco tempo è diventata pandemia Non sappiamo neanche noi più che cosa sia Di certo so che devo stare chiuso in casa mia Nonostante questo virus sulla scuola non si ferma Basta un computer acceso ed una webcam attiva Appena svegli addormentati a connettenzione online È difficile per tutti ma non ci adegniamo mai Con questa quarantena nessuno sopravvive Noi abbiamo bisogno di leggi restrittive La soluzione qui è chiudere l'attività Altrimenti il virus non si fermerà Sto sul balcone con la vicina L'unica cortezza è la mascherina Sto sul divano e passa una giornata Accendo Netflix un'altra puntata Covid-19, un virus dalla Cina L'unico rimedio è usare la munchina Stiamo chiusi in casa sempre col pigiama Lo togliamo solo quando il prof ci chiama Cosa fate i fighi? Girando in moto Se tanto là fuori è tutto vuoto Chi rimane a casa è gente per bene Tranquilli sto bene Lo stress tutto il giorno, la noia che ci affligge Tutti chiusi in casa e il virus si sconfigge La cosa positiva è al terzo della mattina La routine di tutti dal divano alla cucina Vogliamo tornare ad una vita normale Dove un abbraccio non faceva male Conte che ci spiega e sta a noi rispondere Io resto a casa, l'hashtag da diffondere It's maggot Io resto a casa, l'hashtag da diffondere Io resto a casa, l'hashtag da diffondere Io resto a casa, l'hashtag da diffondere